Mentre Schitulli, l'attuale presidente della provincia di Bari, sembra defilarsi sempre più dal mondo della politica, mantenendo un tono dimesso anche nella partecipazione a incontri e dibattiti, il senologo chirurgo e oncologo, presidente della Lega Italiana, per la lotta contro i tumori è entrato a far parte del Consiglio Superiore della Sanità. La nomina è arrivata direttamente dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che ha firmato il decreto del nuovo Consiglio, che si insedierà ufficialmente lunedì prossimo a Roma e resterà in carica per il prossimo triennio. L'organo istituzionale che fa da supporto al Ministero della Salute ha prevalente carattere consultivo scientifico e spesso è chiamato ad affrontare importanti problematiche nazionali in campo socio-sanitario. Schitulli, unico pugliese a far parte del Consiglio Superiore della Sanità, nel corso della sua brillante carriera professionale, è stato insignito di numerosi riconoscimenti in campo scientifico. L'ex allievo del professor Veronesi ha ottenuto l'onorificenza di Papa Giovanni Paolo II e il conferimento della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica dal Presidente della Repubblica Italiana. Schitulli ha anche una considerevole produzione di pubblicazioni scientifiche, oltre 300 e vanta oltre 28.000 interventi chirurgici per patologia mammaria.